Ben tornati con le consuete previsioni a cura di MeteoOne. Mentre un forte campo di alta pressione comincia ad estendersi sull'Europa orientale, garantendo condizioni di stabilità sul nord Italia e marginalmente anche sulle zone terremotate ed il sud, un ennesimo vortice di bassa pressione comincia a muoversi dalle coste algerine verso il Mediterraneo centrale. Già dalla giornata odierna le prime piogge colpiranno la Sardegna e la Sicilia con estensione nei prossimi giorni a tutto il centro-sud. Ma andiamo a vedere adesso nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per sabato 21 gennaio. Previste deboli precipitazioni al mattino su Puglia e Basilicata Ionica, con estensione durante la giornata al Potentino, Barise Centrale e Foggiano. La neve potrà accadere sulle montagne lucane tra i 1200 e i 1300 metri e sugli 800-900 metri del subappennino. Altrove, previste schiarite sempre più ampie, con cieli sereni o poco nuvolosi. I fenomeni sulle rimanenti aree si esauriranno entrosera. Le temperature, come possiamo notare dalla grafica, sono previste in leggero aumento, sia nei valori massimi che minimi, a partire dai settori più meridionali. I venti soffieranno deboli dai quadranti sudorientali con rinforzi sui settori ionici. I mari risulteranno da poco mossi a mossi. Ed ora, ecco la foto del giorno. Ringraziamo il nostro telespettatore Gianni Casanova per averci regalato questa foto che immortala il portale della Cattedrale di Altamura, ricoperta dalla neve, caduta abbondante durante i giorni dell'Epifania. Se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di Meteo One e Teleappola, oppure alle mail che vedete in sovrimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie a tutti per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie a tutti per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.